Andiamo ad esaminare quelli che sono i fattori che generano il rischio. Tra i fattori generatori di rischio mi sembra sicuramente, è già stato detto, mi ripeto e scusatemi, ci sono le inadempienze da parte delle aziende rispetto alla normativa in materia di salute e sicurezza, per correttezza d'analisi però va sommato anche perché bisogna tenerne conto, perché se si vuole affrontare il problema bisogna vederla nella sua complessità, la disattenzione dei lavoratori che sottovalutano i rischi, poi c'è la perdita di concentrazione e di attenzione alle circostanze e alle macchine pericolose, in cui i lavoratori sottoposti ad elevati ritmi di lavoro e la tendenza ad edificare dispositivi di protezione allo scopo di manovrare più agevolmente ed aumentare così la produttività. Ad aggravare questa situazione, che è già tragica di per sé, esiste oggi la crisi economica e la sempre più generalizzata ormai quotidianità della precarietà, che diffonde nel mondo del lavoro e tra i lavoratori la paura di perdere il lavoro e di conseguenza la disponibilità, crea così, è stato detto prima, la disponibilità a lavorare in condizioni di sicurezza sempre più precarie, aumentando di fatto il rischio di morire o di infortunarsi sul posto di lavoro. Sarebbe poi interessante analizzare, e questa è un'idea tutta mia personale che vorrei poi, diciamo così, approfondire, quanto gli attuali stili di vita e i nuovi bisogni imposti da questa nostra modernità influiscono sulle questioni del lavoro. Quanto avevo elencato le malattie che venivano considerate come prioritarie sul lavoro, le patologie che l'Organizzazione Mondiale della Salità elenca sono esattamente più o meno uguali, perché sul lavoro elenca l'Organizzazione Mondiale della Salità i tumori causati dall'esposizione a sostanze pericolose, i disturbi muscolo-cheletrici, quelli respiratori, la perdita del dito, le malattie circolatorie e la malattia trasmissibile. Esattamente quanto si rileva in Italia, che sono legate a malattie del sistema muscolo-scheletrico, patologie associate allo stress, quindi c'è malattie cardiovastolari, eccetera, patologie da sensibilizzazione o da contatto con agenti biologici e chimici. Come si vede il mondo non è diverso da quello che è l'Italia, l'Italia non è diversa dal mondo. Per quanto riguarda i rischi emergenti nel mondo del lavoro, la cancerogene professionale, ricordata prima, si stima che nel nostro Paese i lavoratori esposti potenzialmente alle sostanze cancerogene si appari a circa il 24-25% degli occupanti. Vorrei toccare qui un problema che non è di poca rilevanza e che viene, a mio modesto parere, un pochettino messo di sparte o non considerato, ed è quello del mondo delle donne. I problemi che sono legati alla salute sul lavoro non sono necessariamente identici per gli uomini e per le donne. Solo un miglioramento significativo delle condizioni di lavoro permetterebbe di progredire verso un'apertura di tutti i settori e di tutte le professioni agli uomini e alle donne in condizioni compatibili con la salute. Non bisogna dimenticare il lavoro non retribuito senza un ripensamento critico sul ruolo della famiglia come struttura disuguale, struttura di sfruttamento del lavoro famminile. Non si raggiungerà mai l'obiettivo di una società dove gli uomini e le donne sono uguali se non si affrontano questi problemi. In Italia viviamo in un clima ideologico di esaltazione della famiglia. Il lavoro non retribuito, quello all'interno della casa, esige dei cambiamenti radicali quanto il lavoro retribuito in un'impresa. I dati, e quindi non è solamente una questione italiana, è una questione di società, è una questione a livello europeo perlomeno. I dati di un'inchiesta europea sulle condizioni di lavoro, sono dati del 2005 ma sostanzialmente le cose non sono cambiate, sono molto espliciti. Con un reddito inferiore le donne passano più tempo a lavorare quando si sommano il lavoro retribuito e il lavoro domestico non retribuito. Le donne occupate a tempo pieno lavorano in media 63 ore alla settimana, tra lavoro retribuito e lavoro domestico non retribuito. Quelle che lavorano per time lavorano 54 ore alla settimana, sempre con l'ertribuito e non retribuito. Per quanto riguarda gli uomini, il lavoro a tempo pieno rappresenta una media di circa 50-51 ore alla settimana, dove agli uomini viene attribuito circa 7-8 ore di lavoro domestico, mentre se dovesse essere lavoro part time rappresenta circa 30-31 ore. Lo stress di questa situazione viene poi portata nel mondo del lavoro e noi sappiamo che lo stress è una delle cause che può far sorgere l'incidente nel lavoro. Vorrei anche ricordare, quando si parla di sicurezza sul mondo del lavoro, una delle cose che viene ogni tanto ricordata ma mai sufficientemente enfatizzata è il fatto degli incidenti che vengono dentro le mura domestiche. È un'analisi molto profonda da fare e quando noi andiamo a esaminare questa situazione vediamo che ci sono dei dati che potrebbero mettere spavento e si dovrebbe intervenire in una maniera perlomeno molto forte di sensibilizzazione a tutti i livelli, alla stessa stregua degli incidenti che succedono in fabbrica. Il miglioramento della legislazione è certamente una tappa importante, necessaria, ma è ancora più importante creare una dinamica favorevole alla prevenzione nell'impresa e nella società. I rappresentanti per la sicurezza sono un potenziale immesso. Si dovrebbe rafforzare il loro ruolo, dare loro mezzi adeguati e facilitare il loro coordinamento. Questo è stato detto anche prima. Un'altra questione molto importante è da sottolineare e enfatizzare è la lotta contro il lavoro precario. È impossibile migliorare in una maniera durevole e seria la salute sul lavoro se non si ribalta la tendenza alla precarizzazione del lavoro. Le forze politiche, le forze sociali, tutti dovrebbero coniugare il lavoro come ad un valore. Ogni diritto conquistato dai lavoratori equivale all'interesse generale del Paese. Invece il Governo, anziché cercare di applicare e migliorare il testo unico, lo sta letteralmente demolendo. Ma non solo il Governo, perché ricordiamoci degli episodi che avvengono. C'è una circolare dell'Inps che la quale dice testuale i controlli, se non opportunamente indirizzati, potrebbero aumentare il disagio e le difficoltà dei soggetti imprenditoriali. È chiaro. Il senso è molto chiaro. Vista la crisi, la sicurezza sul lavoro può attendere. Una direttiva del Ministro del Lavoro, che chiede addirittura agli ispettori del lavoro di non intervenire su segnalazioni anonime dei lavoratori. E ribalta, quindi, l'importanza di cercare comunque di garantire la continuità lavorativa. Quindi non intervenite se non avete nome e cognome e soprattutto dovete garantire, dovesse esserci l'incidente, garantire che il lavoro debba continuare. Si tutelano gli imprenditori, in definitiva, che non sono in regola. Si danneggiano quelli che sono in regola, si mettono imprese e lavoratori le une contro le altre. Noi, come Medicina Democratica, denunceremo con forza chi vuole far pagare la crisi economica esclusivamente ai lavoratori, attraverso la riduzione del costo del lavoro o l'eliminazione degli obblighi e la responsabilità dei datori di lavoro. Lavoreremo perché si passino messaggi che vengano a modificare il concetto di sviluppo, sbagliato, nel quale la sicurezza e i diritti sono dei costi da tagliare. E il lavoratore è considerato la stessa stregua.